Su richiesta di 40 operatori del settore che formano il Tavolo della Musica, torna sabato 11 giugno il Fenza Rock, il festival della musica estiva, ma in un nuovo formato che abbandona il concorso Canor che aveva reso celebre l'iniziativa. In contemporanea con la Bigorda come evento alternativo, sabato prossimo tre band Fentine si alterneranno sul palco di il Fenza Rock per presentare i loro ultimi lavori. Saranno i MoMA, Derek Is Dead e The Glorious Family ad animare la serata ospitata dal neonato locale La Birreria in via Granarolo, subito dietro il centro commerciale La Filanda e di fronte all'ingresso dell'istituto comprensivo San Rocco. Rock teatrale, rock indie e rap urbano, i generi musicali portati in scena. All'interno della serata saranno poi ospitate due band provenite dai territori romagnoli tra i più attivi nel mondo del rock giovane. I Sweet at Shit, direttamente dai rock a tratto di Savignano, su Rubicone, e Metropolitics, che invece provengono dal concorso Live Video Contest di Molarock. Il Fenza Rock proseguirà poi nei venerdì di luglio e agosto con altri sette appuntamenti in centro storico dove altrettante band emergenti avranno la possibilità di farsi conoscere al pubblico faentino. I palcoscienzi saranno in pieno centro nella piazzetta della legna delle ex poste, al Caffè Bassi e al nuovo bistro Rossini, in fase di ultimazione lavori. Rinnovato sarà anche il format di Ferragosto sotto le stelle, ma ancora gli organizzatori preferiscono mantenere tutto segreto, mentre è già stato reso pubblico che il prossimo capodanno sarà dedicato a Ivan Graziani, a vent'anni dalla scomparsa. Già fissate anche le date del prossimo May, dal 23 al 25 settembre, con gli ultimi due giorni focalizzati sul giornalismo musicale e una programmazione che ha già attirato l'attenzione dei giornalisti di settore. La Festa della Musica diventerà poi un format nazionale, ospitato ogni anno dalla Capitale Culturale d'Italia, per volere del Ministero dei Beli e delle Attività Culturali e del Turismo. L'incarico è stato assegnato al May, che quindi quest'anno, il 18 giugno, occurerà a Mantua, Capitale 2016, la Festa dei Mille Giovani, in collaborazione con il Ministero, la SIAE, Disma Musica e il Comune Mantovano, dieci parchi con stili musicali diversi divisi nel suggestivo centro storico di Mantua.